vediamo invece il prossimo che cosa c'ha flint flint e non dico nient'altro quindi a questo livello abbiamo la pistola il pugno e la pistola scaldante in quanto raggiungi la diga di civita gustosa piuttosto in fretta credo dammi 5 minuti che sono lì cos'è ha una goccia di caffè sembrava un bonbon al cioccolato e gli studenti stanno arrivando sui pullman della scuola flint pulirò la strada in un ok facciamo due secondi allora a parte madonna mia che fame ma per fare la versione più potenziata prendo il modello del secondo potenziamento e gli sbattono su un po di blu per far vedere guarda è potente anche questa guarda è uguale pistola fondente anche il pugno se non ho visto male nella miniatura c'aveva delle linee blu che significavano potenza no flint devi lasciare la presa tu collo vieni qui perfetto no un po più in qua vieni morto benissimo allora tu vieni con me madonna mia l'ultimo potenziamento di sti oggetti comunque è molto veloce ok qua ho sbagliato oggetto ma abbiamo appena scoperto che se vogliamo il gelato possiamo dicevo il gelato possiamo scioglierlo anche con il caffè ci mette solo di più ci mette solo di più ma si può fare quindi se eventualmente la palla è gelato e noi non riusciamo a colpirla con la pistola possiamo sempre tenere in considerazione questa opzione ecco fatto prendiamo la goccia di caffè anzi no faccio prima a scioglierli così gli orsetti non mi spreco neanche comunque come già ho detto le zollette di zucchero che potremmo anche distruggere con il pugno ma il gioco non te lo permette giusto pistola fondente come arrivo qua come arriviamo qua sopra pistola fondente ci arriveremo dall'alto ci arrivere esatto dicevo ci arriviamo arrampicandoci qua so madonna mia i pezzettoni lì di sushi però che fame che mi fanno venire no aspirazione completata che fame che mi sta salendo santo cielo ecco fatto pistola fondente ecco qua l'emmental tra l'altro l'ho mangiato a pranzo madonna mia è uno dei uno dei miei formaggi preferiti allora flint è qua giusto? sì perfetto questa però è una canagliata questa è una canagliata perché non c'è no il caffè anzi sai cosa? facevo prima così dicevo è una canagliata perché pistola fondente se non fossi caduto io come cacchio lo sapevo che io come lo sapevo che se non vedevo il il coso qua come ho preso saperlo? ho chiamato che qua sotto c'erano tre oggetti qui c'è un'altra palla gelato perfetto va bene già che siamo qua ecco ma dite che no eh per un attimo non so perché pensavo avrei potuto scioglierlo no il caffè ho dimenticato vieni con me ecco fatto molto Harry Potter sta canzone sta host qui è molto battaglia finale di Hogwarts non so perché mi ci fa pensare a una roba simile allora facciamo la cosa più ovvia facciamo la cosa più ovvia dobbiamo salire qua prendere il miele e sciogliere il bonbon ma il bonbon mi sembra che possiamo benissimo lasciarlo qui basta un po' non so te Flint ma dovresti anche beccare il resto del pane però vabbè siete accontenti così chi sono io per giudicarti ma c'ha un cappello questo aveva un cappello mega tira pugno ah già non puoi non puoi sciogliere la zolletta aspira e non puoi romperla con un pugno grazie ecco fatto sì per carità ha senso il fatto che la zolletta di zucchero la immergi nel caffè quella si scioglie grazie voglio vedere si scioglie anche questo ok ma si prendiamo la goccia di caffè e via allora guarda un veterinario ma siamo già arrivati a film devo eliminare il chili e subito vieni qua ecco fatto continua qui che cosa abbiamo qua si scende a piedi ok vabbè finiamo di aspirare tutta la salsa che ti devo dire blu 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 ecco fa aspetate bimbi eh mi salvo io non vi preoccupate ma guarda un po' c'è una palla di gelato nascosta qui ecco qua scendi flint 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 devi scendere grazie non piangete unici due bambini su una scuola vi sto salvando quanto siamo? 10 e 9 ok vieni qui c'è ancora una goccina allora flint scendi no pistola fondente ecco fatto perfetto niente più orsetti gommosi palla di gelato vediamo no qui c'è aspirato vieni qua pollo perfetto e non c'è più il pollo mi serve un'altra zolletta un altro coso di caffè e sputa ecco ecco qui a posto allora complimenti flint tu si che sei un eroe flint devi aiutare i bambini devo eliminare il chili e subito flint tu non sei un eroe tu sei l'antagonista è tutta colpa tua se questi bambini moriranno sappilo ok questo era caffè non era non è risucchiata dicevo non è l'olio muori muori aspetta torniamo e a questo giro non sprechiamo il caffè l'abbiamo preso un trofeo ok vediamo no ancora uno tavolo perfetto non me ne frega niente di prendere i punticini mi importa solo della zolletta ecco fatto no flint elevazione iniziata ecco qui allora hai raggiunto il pull sono al secondo sam sono sul divora salsa non è vero ho appena ragionato di quello che stava dicendo non sei sul divora salsa sei a piedi dobbiamo ancora andare a sciogliere il gelato venga tirapugno perché il boh vabbè guarda stavo giusto chiedendo perché c'è il miele perché così non ti butti di sotto te l'hanno messo lì apposta perché così non fai la cagata di buttarti siamo 13 e 12 dai vediamo allora lì c'è cal stai zitto cal come arrivo un attimo da quella parte fammi vedere dobbiamo buttarci più in fondo possibile ma allora non perché voglio prendere i punti ma perché non mi fido se abbiamo lasciato qualcosa qua in fondo però va bene aspetta facciamo le cose con ordine pistola fondente potrei anche tornare indietro potrei tornare indietro a piedi regolazione altitudine ma faccio prima mi sa a fare così in realtà mi sa che facevo prima di andare a piedi veramente e burp e burp ecco qua tanto conta che questo come elimina salsa quindi va bene siamo al 50% e io credo proprio di aver perso almeno uno dei degli obiettivi da distruggere sicuramente pazzo pazzo sì certo statemi zitti tutti per favore grazie allora ci siamo quasi eh prima di distruggere rimozionatura esatto tutti tutti burrito e togliere tutta la salsa distruggiamo tutte le palle di gelato e tutte le zollette di zucchero guarda un po' abbiamo dimenticato qualcosa e se la butto lì secondo me è qua sotto stavolta non mi freghi aderenza persa stavolta non mi freghi gioco ormai ti ho capito ti ho capito come nascondi le cose magari ti metti un oggetto nascosto dietro un altro oggetto e penso ok tanto dopo quello non c'è nient'altro invece guarda un po' eccolo lì ecco fatto divoratura salsa dai su ma che magari il burrito non serve neanche che lo buttiamo via basta togliere tutta la salsa e via continuate tutti a scappare la diga non reggerà ancora a lungo hanno riusato lo stesso modello di flint che faceva così e già l'abbiamo usato in un altro episodio comunque nuovo potenziamento sbloccato penso che potenzierò il pugno penso che potenzieremo il pugno a questo giro sì perché la forchetta non mi pare di sta grande utilità eeeh continuo a non capire che oggetto sia io credo sia lo spray per le scarpe credo sia lo spray per le scarpe a questo giro